Signore e signori, una buonasera per ritrovati, un saluto affettuoso a tutti voi, a miei uomini, ho parlato di mobili antichi e ci siamo divertiti, direi, più voi che me. Luca, mi apre il libro qua alla lettera K con me, grazie. Quando un tappeto nasce da un grande uomo, si tratta di un grande tappeto, beh, lui ha un solo nome, si chiama K. John, è lui. Ho avuto il sospetto che fossero, che fosse un autentico originale K. John. Mi dare due milioni di euro, due milioni di euro mi devi dare cash. K. John nasce nel 1740 per ordine di risultato. Anticamente sapete che in Oriente si pensava che il figlio, che colui che guidava il popolo era direttamente figlio del sole, nasceva dal sole. Bene, la parola K. John significa figlio del sole. Questo sultano è considerato un po' come il Luigi XIV di Francia, quindi il re sole di Francia. Un uomo in cui i palazzi erano i palazzi più belli d'Oriente. È stato il più grande esteta d'Oriente. E lui volle creare questa manifattura. Sì, ma il tappeto che state per vedere non è uno dei miliardi di palli di imitazione di K. John. Vi ammetto che anche io vi ho venduto e presentato in questi anni. Mi ammetto che anche io vi ho venduto e presentato in questi anni. Io vi do certificato di garanzia ed expertise ai termini di legge. e questo è un autentico originale K. John di prima manifattura. Accomodati. Al posto del cartiglio c'era il simbolo dell'imperatore. Lui era a Fergite, il grande Fergite. Solo lui poteva avere questo simbolo. Questa è la sua torta per me. Il colore, i colori rigorosamente naturali. Assucco d'erba, la terra d'ossiccio del deserto e ancora i fiori essiccati al sole. Questo è il vero persiano. L'esemplare in visione costa soltanto 12.000 euro. Bene amici, il primo di voi che prende la linea. 1.490 euro. Grazie. Grazie.